meravigli superiori a quelle di ogni altra terra osservo le piramidi più alti di ogni altra costruzione realizzata dall'uomo ciao tutti noi sappiamo che le piramidi sono una delle sette meraviglie del mondo quindi se sei sempre affascinato dalla grandezza di queste piramidi la prossima volta che le visiti armati di questi fatti le piramidi d'egitto non sono solamente rappresentanti nelle tre piramidi che tutto il mondo ne conosce chiopo, kafran e mecerino cioè altri 118 miracoli ma quelle tre di ghisa sono le più famose le piramidi egizi non furono costruite solo dai faraoni per commemorarli per quanto ci possa sembrare sorprendente che le piramidi sono soltanto la parte superiore cioè la sovrastruttura delle tombe in cui vengono sepolti i sovranigizi ci sono più di 100.000 delle persone che hanno partecipato a costruire questa piramide accanto a me mi chiamo Keope? ma dai, tutto il mondo sa come ti chiami un attimo vale la pena notare che 100.000 di costruttori erano lavoratori non schiavi come si crede la gente ora tocca alla parte più importante di questo video la maledizione dei faraoni ma non sovrastruttori che si chiama il giro che si chiama il giro che suonano mi aiutare che il giro che aiutare il giro a fare il mondo e non dimenticare anche se la like alla fine la fine o subscribe al canale youtube grazie a tutti